buonasera siete sul canale pratiche sartoriali alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana di seguito alle vostre richieste continuiamo la rubrica momenti del nostro lavoro e oggi stiamo lavorando su un capo molto molto bello si tratta di una camicetta bellissima il lavoro che stiamo facendo è di grande maestria ma nello stesso tempo la camicetta ha un taglio semplice e una linea classica ecco davanti a noi tool francese di cotone 100 per 100 cotone il tessuto è indescrivibilmente bello dall'azienda sofia led e di questo tessuto noi stiamo cucendo una camicetta classica è una camicetta di taglio maschile la penseno è stata leggermente trasformata diminuita per la precisazione dietro abbiamo il carret davanti a sinistra davanti a sinistra ci sarà un taschino e poi la bottonatura il nostro tessuto adesivo è blu scuro peso 20 grammi leggermente elastico sulla trama e per niente elastico sull'ordito e con questo materiale abbiamo già adesivato la parte della bottonatura non si usa più di così ecco che abbiamo aggiunto due volte l'altezza della bottonatura e poi abbiamo adesivato solo la parte esterna cioè il bordo fatto questo pieghiamo due volte stiriamo e poi sarà cucito così non si copre non preoccupatevi se non capite quando abbiamo finito la camicia vi facciamo vedere la recensione e vedrete tutto poi abbiamo preparato anche l'orlo è già stirato anche il carret è già pronto come vedete non è adesivato è semplice doppio la cucitura che unisce il carret alla camicia rimane all'interno cioè alla recensione di questo capo capirete come è fatto non è una cucitura nascosta e non è una bordatura cioè fate attenzione quando lavorati con tessuti trasparenti e quando le cuciture sono visibili cioè è importante che i margini siano tagliati bene e alla stessa larghezza perché se si inizia a 5 mm più avanti a 3 e poi 7 essendo il tessuto trasparente alla fine è molto brutto da vedere sul capo pronto perché si vede tutto è importantissimo seguire i margini di cucitura cioè è bruttissimo da vedere un margine che va e viene il carret scende leggermente nel davanti non finisce esattamente sulla linea della spalla ma entra due tre centimetri nel davanti come vedete i margini della cucitura sono visibili e se non sono stati fatti bene sarebbe molto brutto da vedere poi qui abbiamo già preparato le maniche il modello della manica sarà semplice una cucitura e un semplice orlo non ci saranno polsini perché la cliente e la cliente sono io non voglio polsini voglio solo girare due volte la manica assomigliando un risvolto ecco queste saranno le maniche della nostra camicia e adesso margherita vi farà vedere come fare la cucitura laterale di un capo di tessuto così delicato e trasparente facciamo la cucitura 0 7 mm dal bordo lunghezza del punto 2 2,5 mm 3 mm sono tanti l'ago deve essere molto sottile noi usiamo numero 70 e non più di 70 è già tanto per questo tessuto quindi lavoriamo senza correre cuociamo a 7 mm punto 2 massimo 2,5 mm e ago sottilissimo noi usiamo numero 60 questi sono elementi e sono il segreto di un risultato bellissimo di quello che fate margherita ha messo rovescio con rovescio e sta cucendo sul dritto finiamo la cucitura con calma penso che la rubrica momenti lavorativi del nostro atelier rimarrà a lungo sul nostro canale ci sono tanti commenti ringraziamenti per queste pillole di nozioni che ricevete attraverso questi video di conseguenza abbiamo deciso di continuare margherita facciamo vedere dopo aver cucito togliamo l'imbastitura sembra complicato fare un capo con questo tessuto ma in realtà non c'è nulla di complicato dovete solo sapere i passi e dovete lavorare pulito pulito e con logica prima di iniziare dovete pensare la sequenza delle operazioni cosa si fa prima cosa si fa dopo se non abbiamo pensato in anticipo a tutto se non sappiamo quale operazione si fa prima dell'altra ci troviamo in grande difficoltà dopo penso che con margherita non sappiamo niente poi lasciamo 4 mm dal margine e tagliamo il resto abbiamo cucito a 0,7 centimetri adesso lasciamo margine di 4 mm il resto va tagliato cioè circa 3 mm via da questa operazione da come tagliamo adesso dipende la bellezza della cucitura dopo io non sopporta andare in giro con cuciture imperfette per favore margherita tagliare bene ecco nemmeno io sono in grado di distrarre un bravo sardo un vero bravo sardo bene adesso vi chiedo per favore di guardare con attenzione la nostra cucitura non abbiamo fatto niente di particolare ma solo passando con la macchina vedete le onde che si sono formate qualcuno pensa che adesso si continua semplicemente girando il cucente dal rovescio e le onde si nascondono all'interno niente affatto assolutamente prima dobbiamo stirare leggermente qui per far sparire le onde poi stiriamo la cucitura verso il dietro adesso margherita vi farà vedere come si stira tutta da un lato poi vedrete come guardate passiamo delicatamente con il ferro apriamo e per favore guardate quanto è bella la nostra cucitura anche se non è ancora finita se adesso non è bella quando finiamo sarà ancora peggio adesso stiriamo entrambi i bordi insieme verso il dietro ecco qua adesso andiamo di nuovo la macchina da cucire i margini finiscono all'interno e andremo a cucire chiudendo lì dentro non vi consiglio di imbassire il tessuto è molto delicato qualcuno si chiederà perché faccio una camicia di taglio maschile di questo bellissimo tessuto perché non faccio una blusa con volant peghe o simili semplicemente perché sono sicura che indosserò molto di più una camicia che una blusa e più il mio stile insomma in generale mi piacciono capi classici che non vanno mai di moda se non vanno mai via dalla moda e poi portare quando vuoi ovvio ognuno è libero di scegliere quello che più gli piace io mi trovo molto più comoda con un taglio maschile è una cosa più pratica se si vuole una cosa elegante ovviamente si può fare bluse con volant pieghe o qualsiasi cosa alla fine il principio del lavoro è sempre lo stesso io in genere amo veramente la classica che non va mai fuori moda ascoltate me ma seguite le mani di margherita adesso cuciamo in modo che i margini rimangano dentro e si fa un pedino di distanza dobbiamo essere sicuri che i bordi rimangono all'interno ecco perché tagliamo via iniziamo con attenzione perché il tessuto è molto sottile e a volte si ragrinza sotto il pedino quando facciamo il riforzo dell'inizio della cucitura quindi tenerlo fermo assolutamente quando si inizia è facilissimo che vi si mangi sotto teniamo leggermente il tessuto e tornandoci con la mano destra sono anche molto felice che avevamo il tessuto adesivo adeguato come abbiamo già parlato è molto importante usare l'adesivo giusto e non dare niente per scontato ecco vedete mentre si cuce di nuovo si formano leggere onde dopo con il ferro dobbiamo farle sparire con questo video in pratica vi stiamo facendo vedere come noi lavoriamo con tessuti di questo tipo molto delicati e trasparenti penso che tanti di voi solo seguendo i nostri corsi e tutorial hanno già imparato a cucire da soli diversi capi base ma a volte forse avete voglia di provare qualcosa di particolare qualcosa di un tessuto più interessante e siccome nei negozi non sempre si trovano capi interessanti a un prezzo accettabile noi abbiamo un'altra scelta che invocarci le maniche e fare noi ecco la nostra cucitura è pronta adesso andiamo a stirare vedete abbiamo 9 onde quando stirate mi raccomando non fare come al solito avanti indietro si fa con attenzione appoggiando e alzando il ferro da stiro in questo modo eccoci pronti vedete in questo modo si fa adesso lo stiriamo il margine piegato verso il dietro assicuratevi sempre di posare bene il tessuto sull'asse per non creare pieghe stirando perché poi è difficile toglierle ed ecco che la nostra cucitura laterale è pronta vi abbiamo fatto vedere uno dei momenti lavorativi del nostro atelier video come questi ci saranno tanti semplicemente entreremo con la videocamera nell'atelier e vi faremo vedere cosa sta succedendo vari momenti del nostro lavoro su un capo che stiamo facendo proprio in quel momento spero che per voi sarà utile e interessante come sempre aspettiamo con interesse i vostri commenti siete un bel stimolo per noi e per le nostre sarte e con questo vi salutiamo mettete like condividete i nostri video e iscrivetevi al nostro canale e seguiteci e comprate i nostri corsi sono un'ottima guida per i vostri progetti sartoriali per oggi vi saluto con voi sono stati paus tirini mehalo una margherita e tutto al nostro team